Il dottor Gian Paolo Costa ha curato con l'Associazione Potenzia un incontro con Daniele Lembo, un scrittore. Ce lo presenti? Sì, Daniele Lembo, c'è onora della sua visia, della sua venuta qui a Fondi, è ormai una realtà a livello nazionale come scrittore. Abbiamo la fortuna di averlo qua vicino perché lui abita a Cestena di Latina. Il suo grande rigore storico gli ha permesso di fare delle andagini storiche molto interessanti su una fetta di storia che spesso è avvolta da notizie artefatte e mistificate. Come appunto la storia del regime fascista, della Repubblica Sociale e soprattutto un aspetto molto particolare e molto interessante che sono i servizi segreti che sono stati organizzati durante la Seconda Guerra Mondiale sia in campo italiano che in campo tedesco. E' un argomento molto interessante che lui ha sviscerato ed ha reso effettivamente molto vivibile e molto apprezzato anche dal pubblico. Come mai appunto qui oggi? Ma noi vogliamo continuare anche ad avere qui la presenza a Fondi di persone che riescono a parlare di storia in maniera semplice e diretta nei confronti della gente, specialmente dei giovani che spesso si trovano davanti ad episodi o a personaggi di cui sanno poco. fa parte invece, deve far parte del bagaglio culturale di ciascuno di noi, proprio la storia del nostro paese, una storia che però deve essere un po' sfrondata da tante realtà che non sono state ben chiarite o da situazioni che sono state un po' alterate e mistificate. Daniele Rembo ha la capacità proprio di far questo, di rendere la storia molto facilmente apprezzabile dalle persone, anche dai neofiti. Ha scritto tantissime sue opere, anche romanzi. E devo dire è l'immediatezza del messaggio che rende piacevole questa lettura. Grazie a tutti.